ahahahah ma cos'è fa mai la sera? Francesco ah ah no cazzato la volevo è cazzato cazzato no ma ora fai lo cattilio si va via la macchina ora si fa ancora bella cagata allora si che domani si viene loro con il tuo negozio e le cagate del cavallo con l'oro eh ah 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 ah